Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Ciao ragazzi, ben ritrovati. Due parole rapide sull'inizio di campionato di Napoli e Roma, le squadre che fino a oggi sono quelle che hanno maggiormente impressionato. Entrambe a punteggio pieno, entrambe hanno vinto le loro rispettive prime due partite in maniera secondo me anche convincente, benché differenti, perché da una parte la Roma ha regolato le avversarie prima nella trasferta di Salerno e poi in casa contro la Cremonese di misura, 1-0, mentre il Napoli invece è andato a Valanga, prima contro il Verona e poi contro il Monza. La premessa è doverosa, non erano due test diciamo importanti dal punto di vista della difficoltà, sia Napoli che Roma hanno incontrato quattro squadre che verosimilmente lotteranno per la salvezza a meno di cataclismi e quindi questo va preso come dato di fatto nel giudizio parziale che andiamo a dare adesso. Anzi, più che un giudizio sono considerazioni sparse su quello che ho avuto modo di vedere in questi primi 180 minuti. Spero che il format vi piaccia, nel caso fosse così lasciate un like al video per supportarlo e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché stiamo andando molto bene con le iscrizioni e attivate la campana degli aggiornamenti in modo tale da essere sempre avvisati in tempo reale quando usciranno nuovi contenuti. Oggi esce anche un altro video sul toro nel pomeriggio, quindi appunto se attivate la campanella non ve lo perdete di sicuro. Roma e Napoli, io partirei da qualche ragionamento sul Napoli che è la squadra che probabilmente a livello di spettacolo ha fatto meglio in queste prime due giornate. Prima il bellissimo esordio di Verona, un 5-2 esterno all'interno di una partita nettamente dominata in lungo e in largo, a parte il primo quarto d'ora a 20 minuti e poi appunto nel resto della partita i gol sono stati 5 e potevano essere molto di più ma secondo me la prestazione contro il Monza è stata ancora superiore perché lì non solo c'è stato un dominio a livello di gol di risultato di occasioni ma proprio a livello di gioco il Napoli ha messo sotto il Monza in una maniera impressionante. Un Monza che si è presentato al Maradona rabberciato con diversi assenti una squadra ancora in rodaggio, apro e chiudo parentesi, che secondo me a breve cambierà l'allenatore e questa è un'impressione che ho avuto vedendo anche il Monza in entrambe le partite visto che l'esordio lo ha fatto contro di noi quindi avevamo già avuto modo di vedere l'evoluzione del lavoro di Stroppa che al momento non c'è ma in ogni caso il Napoli troppo superiore all'avversario quindi ecco mi viene da dire che forse tutte le critiche che sono state fatte in estate a De Laurentiis e all'operato della dirigenza napoletana come dissi già qualche settimana fa in un video a parte non sono giustificate e giustificabili anche perché in Italia si ha questa tendenza a non volersi mai separare dal passato questo nostalgismo spinto che molto spesso si rivela contoproducente nello specifico un Napoli che si libera di tutto il suo nucleo storico praticamente e magari negli ultimi giorni di mercato potrebbe cambiare ancora qualcosa si affida a giocatori nuovi e con un allenatore che ha poi il compito di metterli in campo e di cavare qualcosa di buono e al momento Spalletti pare aver trovato i binari giusti per farlo poi ovviamente menzione speciale per Zwarazgelia che ovviamente il tifoso medio italiano non conosceva e quindi figuriamoci se un giocatore che peschi cresciuto calcisticamente in Georgia può fare la differenza beh la risposta l'ha data in campo tre gol in due partite praticamente MVP di queste prime due giornate di campionato con immessa soddisfazione dei fantallenatori che sono andati a dargli fiducia tra l'altro visto che quest'anno è bancato come attaccante quindi ci si aspetta anche una grossa mole di gol da parte del Giorgiano ma ecco Zwarazgelia è soltanto uno dei tanti motivi che secondo me portano Napoli a essere una serie a competitor non dico per lo scudetto perché secondo me ha qualcosa in meno rispetto a Juventus ed Inter ma ecco io non lo ridimensionerei così in Napoli anzi secondo me nella lotta ai primi quattro posti la squadra di Spalletti può rientrare tranquillamente abbiamo visto il solito Napoli alternare due moduli il 4-3-3 e il 4-2-3-1 con questi movimenti molto elastici dei centrocampisti che in fase di possesso alternativamente vanno a giocare da sottopunta due esterni come Lozano che sembra rinato ha fatto molto bene soprattutto a Verona e appunto Zwarazgelia un Ozyman in grandissima forma e negli ultimi giorni sono stati perfezionati poi anche dei colpi d'entrata che servono ad allungare la panchina in tal senso io sono molto curioso di vedere come verrà inserito in tutto questo Raspadori che Napoli ha preso al sassuolo se non sbaglio per 25 milioni più 5 di bonus perché Raspadori è un giocatore abbastanza particolare con un ruolo difficilmente definibile e quindi Spalletti dovrà essere molto bravo a incastrarlo lì in mezzo però per il resto è arrivato il vice Ozyman che è Simeone secondo me potrebbe esserci ancora delle uscite però ecco tanto di cappello per quello fatto da Napoli in queste prime due partite perché ripeto sebbene con avversarie modeste non me ne vogliano tifosi di Verona e Monza la squadra ha dato delle risposte importanti e mi è piaciuto anche Spalletti che proprio dopo la vittoria contro il Monza una domanda specifica ha detto quando vanno via certi giocatori è sempre un dramma però ecco il calcio non si fa con i nomi ma si fa con la funzionalità con la mentalità con la convinzione insomma ha tirato in ballo anche aspetti psicologici che troppo spesso noi sottovalutiamo ma che invece sono molto importanti ora resta da vedere quello che storicamente Napoli diciamo non riesce a fare ovvero se alla lunga manterrà questi ritmi questi risultati e questo cammino non lo possiamo sapere però secondo me la squadra è buona ho letto anche tante critiche alla Roma un 1-0 all'esordio risicato a Salerno gol di Cristante un 1-0 con la Cremonese anche qua con un gol segnato da pallina attiva il colpo di testa di Smalling però va detto che anche se contrariamente al Napoli a Roma ha segnato molto poco i giallorossi hanno prodotto veramente tanto sono stati 180 minuti in cui io penso che almeno una ventina di palle gol pulite i giallorossi le abbiano create semmai c'è da preoccuparsi per il fatto che hanno concretizzato veramente poco questo è un problema soprattutto perché comunque Murigno ha dato degli input evidenti alla squadra si gioca con almeno 4-5 giocatori con caratteristiche spiccatamente offensive 4 sempre ma anche 5 a seconda dei cambi che vengono fatti a partita in corso e anche ieri contro la Cremonese abbiamo visto partire dal primo minuto Pellegrini come centrocampista centrale e qua non sono tanto d'accordo con Murigno perché Pellegrini l'anno scorso aveva fatto vedere che avvicinato la porta poteva essere addirittura più risolutivo e poi davanti Di Bala Zaniolo Zaniolo purtroppo si è fatto male ha avuto un problema alla spalla starà fuori almeno un mese quindi Murigno deve rimescolare le carte potrebbe rialzare Pellegrini con l'inserimento costante e continuativo di Matici in mediana che con la Cremonese è entrato solo nel secondo tempo però ecco diciamo che l'idea è quella di giocare con un 3-4-2-1 che possa permettere alla Roma di di imporsi nella partita e quindi di segnare sempre un gol in più dell'avversario una cosa che va anche un po' in antitesi con quello che è il credo generale di Murigno ma che limitandoci alla partita contro la Cremonese abbiamo visto che con un po' più di attenzione sarebbe potuta finire in goleada e questo senza nulla togliere ai Grigiorossi che tra l'altro noi incontreremo sabato pomeriggio in anticipo alle 18.30 che hanno fatto una gara ordinata tatticamente preziosa con alcuni spunti interessanti e magari se vi interessa ne possiamo parlare a parte introducendo il match di sabato però diciamo che se la Roma nei primi 10 minuti butta dentro un paio di pallone su quelle 4-5 occasioni create subito in avvio probabilmente si parla di una goleada ma Pellegrini la mette fuori da un centimetro a un centimetro dalla porta di Radu e poi a Ebrama porta a vuota la spara sopra la traversa praticamente sulla riga di porta poi Radu fa 3-4 parate molto belle nel secondo tempo la traversa di Esharawi è entrato poi al posto dello Zanone infortunato se capite le occasioni sono state tante chiaro se non segni lasci l'avversario in partita e poi basta un guizzo per farsi riprendere però io se fossi un tifoso della Roma sarei ottimista vedendo quello che la squadra esprime in campo poi ci sono delle cose da migliorare vedremo se magari il mercato porterà altro però ecco la Roma così come il Napoli anche se hanno avuto due inizi differenti accomunati soltanto dalle due vittorie quindi dal punteggio pieno in classifica sono due squadre che mi hanno favorevolmente impressionato tra l'altro per quanto attiene alla Roma lo dicono essendo un grandissimo fan di Murigno quindi non mi costerebbe nulla dire questa squadra punta solo sull'individualità io non sono d'accordo non sono d'accordo ho visto anche un gioco sviluppato in maniera in maniera intelligente voluta ricercata certo sempre nei limiti di quelle che sono le caratteristiche gli input che può dare Murigno che non è guardiola quindi non predilige un gioco fatto di possesso di palleggio ma dal mio punto di vista questa Roma a livello di gioco e di proposta ha fatto un passo avanti rispetto allo scorso anno poi quando la vedremo a pieno regime mentre invece Napoli continua sulla falsa riga dello scorso anno pur cambiando gli interpreti ecco quando la Roma la vedremo a pieno regime secondo me potremo avere indicazioni migliori tra l'altro già nella prossima giornata la Roma avrà un big match quindi vedremo come risponderà sul campo e sono molto curioso di vedere come Murigno andrà ad affrontare partite contro avversari più provanti e come abbiamo detto prima per il Napoli secondo me anche la Roma ha l'obbligo di provare a rientrare nei primi quattro posti e se Napoli e Roma mantengono quelle che sono le aspettative sulla carta perché poi c'è sempre il campo e può succedere di tutto io più che Juve e Inter se fossi nel Milan andrei a temere questo possibile inserimento nella lotta Champions di entrambe le squadre perché il Milan secondo me ha qualcosa in meno rispetto a Juve e Inter e non ha poi tutto questo qualcosa in più rispetto a Roma e Napoli al momento forse ancora un filo superiore ma più per status acquisito avendo vinto l'ultimo scudetto che non per altro Milan che sul mercato praticamente non si è mosso prendendo solo De Ketelar al momento in cui sto registrando il video e mantenendo anche per lunghi quasi per intero la rosa dello scorso anno anche se poi arriva da un bel pareggio rimonta Bergamo e tutto però le altre sono migliorate molto tu magari non sei peggiorato ma Napoli e Roma sono migliorate almeno per quello che si è visto fino ad oggi quindi sarà una bellissima corsa al quarto posto al netto di chi poi andrà a giocarsi lo scudetto ma appunto il Milan deve tenere conto che quest'anno ci sono delle competitor che hanno ambizione che hanno l'obiettivo di qualificarsi per la Champions e lo vogliono perseguire concretamente quindi Napoli e Roma secondo me lì davanti saranno due squadre che contribuiranno in maniera molto molto concreta a modificare la classifica insomma ad alimentare la corsa all'Europa che conta questo è quello che più o meno vi volevo dire ditemi come la pensate voi con un commento qua sotto iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e attivate la campana degli aggiornamenti ci vediamo molto presto e sempre forza toro grazie a tutti